Il Cavaliere della Repubblica, grande ufficiale Barone Vitantonio Colucci, è l'inventore del tubo in polietilene che ha dato una sterzata al mondo dell'agricoltura e non solo, una delle eccellenze pugliesi. Che parliamo del 1967, in quel periodo io iniziai a fare degli studi con riferimento alle necessità che aveva il mercato e quindi capì che il tubo di acciaio poteva essere sostituito con un tubo di plastica. A quel tempo è stato molto difficile però poter estrudere questo tipo di tubo fatto in polietilene. Però piano piano siamo riusciti a fare questo tubo che poi si è diffuso in tutto il mondo con riferimento, come dicevo, sia all'acquedotto sia al gasdotto e all'irrigazione in modo particolare perché oggi se l'irrigazione nazionale e mondiale utilizza questo tipo di sistema è molto agevolato. Quindi la mia idea di quell'epoca ha fatto sì che potesse cambiare l'economia non solo nazionale ma anche mondiale. Un aspetto significativo è anche quello che riguarda la territorialità. Lì non ha mai lasciato la sua città alla quale ha dato tanto perché ha fatto crescere economicamente e quindi poi di conseguenza anche la regione e tutta Italia. Non solo della mia città, non solo della mia regione ma io direi della nazione e se vogliamo perché no quella mondiale proprio con riferimento all'ideazione del primo tubo di polietilene fatto proprio qui a Monopoli. Visto che siamo vicinissimi al Natale, gli auguri per questo momento delicato? Lo facciamo sia direttamente come azienda ma lo facciamo anche come associazione umanitaria Lilli Colucci che è un'associazione che aiuta in questi periodi particolari le persone più bisognose. Quindi un augurio non soltanto attraverso la comunicazione ma anche attraverso cose più importanti che sono quelle di donare in questo momento particolare di Natale e di bisogno.